Questo potrebbe piacervi? Sei già qui? Uè, strepitosa! Sì, sono arrivato prima perché non c'ho già un cazzo da fare! Sai che stasera tolò calo così tanto che troviamo il petrolio? Eh? Ssh, 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 personaggissima proprio! Dai scemo, non parlarmi così che ho dei clienti! Minchia! Animali fantastici e dove trovarli? Arrivo, cara! Minchia che coppia! E chi se li perde? Cià, mi faccia una pericazzata prima di uscire! Amo, come sto? La merda, zia! Secondo me stai divinamente, questo colore ti dona! Amo, stai da paura! Sì, sì, è vero, io mi sono spaventato! Subito! Come sto? Stai benissimo, sembra disegnato su di te! Sì, sì, da Walt Disney tutto ho fatto! Oh! Proprio con la mano che gli tremava, devastato proprio dalla droga! Amore, sei uno spettacolo! Sì, ma del circo però! Scusa? No, ma non ti devi scusare zia, non è stata colpa tua! È stata la genetica a sfavorirti proprio, capito? Senti, ma è il tuo ragazzo questo? No, è un amico, ci frequentiamo! Vabbè, i gusti sono gusti! Minchia che coraggio zio! Che se carichino una foto su Facebook che vi baciate ti chiudono il profilo! Guarda che figa che c'hai che sei una magia di Casanova! Io se fossi in tede non gerai il destino per truffa! Capo do cazzo! Mi sa che ho esagerato! Vuoi vedere che anche oggi si scopa domani? Ah che personaggio! Ciao!